L'obiettivo è quello di poter partire alla volta di Lisbona per partecipare alla prossima GMG, la giornata mondiale della gioventù che si svolgerà quest'estate in Portogallo. E così i giovani della parrocchia di San Michele Arcangelo organizzano una serata rivolta alle famiglie, cinefamiglie e popcorn, con animazione e la proiezione di un film. L'idea è nata innanzitutto sicuramente dalla volontà da parte di tutti i giovani della parrocchia di partecipare a questo evento importantissimo che si terrà appunto quest'estate. a Lisbona e sicuramente anche quindi per aiutare un po' tutti ad affrontare le spese perché è un viaggio che durerà un bel po' di giorni e magari non tutti hanno la possibilità di provvedere da sé. È un modo anche per coinvolgere l'intera parrocchia in questa gioia che sicuramente vivremo noi giovani. Grazie a Dio abbiamo questa possibilità di viverla insieme ad altri giovani di tutto il mondo, quindi nasce da questo. Siete tanti giovani qui in parrocchia? Sì, siamo un bel po' di tutte le età, soprattutto tra i 20 e i 25, e siamo su per giù un 20-25 giovani che si sono prodigati nell'aiutare a organizzare questo evento. Abbiamo avuto la possibilità dopo la pandemia di poter farne altri due negli anni scorsi che ci hanno portato anche, ci hanno spinto a continuare a poter a tutti i costi partecipare anche quest'anno a questa GMG, anche se sarà un po' diverso rispetto agli altri anni, sicuramente è più bella. Quindi siamo rimasti molto contenti dalle esperienze passate e proprio per questo motivo ci teniamo a ripeterla. Non si tratta della prima esperienza di viaggio per i ragazzi e ragazze che frequentano la parrocchia. Ci spinge proprio innanzitutto l'amore per il Signore che Lui stesso ci trasmette ogni giorno perché ognuno di noi potrebbe appunto raccontare la propria esperienza e in che modo ha incontrato Dio nella propria vita e la possibilità anche di magari attirare altri giovani, come appunto è già stato detto, di attirarli qua e poter far conoscere una realtà diversa rispetto a quella che magari è più facile trovare al di fuori.